Roberto Mutalipassi ha concluso ieri sera il ciclo di incontri con i candidati sindaco nell'ambito del programma C'è posto per te, andato in onda su Cilento Channel. Tanti temi trattati e le domande giunte dai cittadini per il candidato della coalizione di centrosinistra che ha rivendicato il legame con il sindaco di Capaccio Pestum che lo ha fortemente voluto alla guida della compagine amministrativa che guida ormai da 15 anni la città. Io ripeto, vedo ma penso che sia sotto l'occhio di tutti che oltre che il fatto che Franco Gaffieri è stato un sindaco che è rimasto ed è tutt'oggi nel cuore dei cittadini di Agropoli per quello che è riuscito a fare nei suoi decenni di amministrazione, però penso che sia anche un sindaco competente, che sia un sindaco, un punto di riferimento, che per me un domani possa rappresentare un collega. Anche oggi nella mia vita professionale io non mi tiro indietro quando ho da dire o da affrontare problematiche e chiedo consiglia dei colleghi. La stessa cosa potrà succedere se dovesse essere bisogno la necessità che questo non mi tirerà assolutamente indietro, qualora una problematica, una soluzione, ma soprattutto per il fatto che ormai diverse problematiche dei comuni non si risolvono esclusivamente da soli, ma bisogna dare conto di quello che è il territorio circostante, delle collaborazioni anche con i comuni limitrofi, quindi assolutamente penso che non vedo nulla di male il fatto che due sindaci si possono scambiare delle idee, delle opinioni e dei consigli riguardo delle problematiche che si possono benissimo risolvere assieme. Nel corso dell'intervista sono stati anche toccati alcuni punti del programma, tra cui il piano commerciale in autentica emergenza. L'impressione che ho avuto io leggendo il programma è che si bada al marketing, ma non si pianifica quello che si immagina come sviluppo commerciale di Agropoli. Anche se non è sotto gli occhi di tutti, purtroppo la crisi che questo settore ha vissuto e purtroppo sta vivendo e purtroppo devo dire non soltanto per colpa del Covid nella nostra città, è una problematica che sta a cuore, soprattutto anche dal punto di vista mio professionale, che quindi lo vivo in prima persona per quanto riguarda il rapporto che ho con i clienti. È vero, per quanto riguarda il piano commerciale non è stato menzionato nel programma, perché questo è un adempimento obbligatorio al quale purtroppo l'ente non ha ancora adempiuto, previsto dalla legge regionale del 2020, quindi noi pensiamo di creare la consulta, di avere un confronto, un dialogo con le associazioni dei commercianti e assieme a loro, con la consulta del commercio, dispone assieme un piano, questo regolamento, questo piano settoriale, questo piano del commercio. Oltre che, devo dire, poi dobbiamo anche affrontare la problematica dei cosiddetti DEOS, cerchiamo di, assieme ai pubblici esercizi, di avere un confronto, un dialogo e, appunto, anche qui con il loro aiuto, attraverso una commissione appositamente dedicata, di definire una volta un definitivo piano dei DEOS e un definitivo piano commerciale che uniformi, casomai sia concentrato sulla settoralizzazione e quindi soprattutto per alcune aree, o almeno le aree di maggior peggio, possono quindi concentrarsi delle attività che appunto possono dare maggiore lusso, maggiore visibilità, maggiore vivibilità alle diverse aree della zona, della nostra città. Tra le domande giunte dai social, il gossip sulla rottura con la porta e l'alleanza con Alfieri. Come è nato questo matrimonio con Alfieri? Dopo un lungo fidanzamento con la porta si può dire che lo ha piantato sull'altare. No, vabbè, è stata una scelta, io ho avuto modo, lo ripeto, l'ho ripetuto qualche sera fa e lo ripeto con tranquillità, l'ho ripetuto in Consiglio Comunale, è stata una scelta dolorosa dal punto di vista umano, ma consapevole e determinata dal punto di vista politico, quindi rispondo, non è stato un abbandono sull'altare, ma mi sento, diciamo, come dire, di aver preso dopo ampio concentrazione, dopo averci pensato ampiamente, di aver preso una strada diversa, che con verso però all'epoca, al momento in cui l'ho preso, assolutamente non pensavo che mi portasse oggi a trovarmi nel posto in cui sono.